Entra nel Giro della Fortuna e gioca anche tu alla Chiappa 13 con il Radio Corriere TV. Due appuntamenti. Mercoledì all'edicola prendi il nuovo numero del giornale e scegli uno dei quattro Maxi Sistemi giocati dal Radio Corriere TV. Domenica, secondo appuntamento alle 13.55 su Rai 1 con il gioco televisivo del Radio Corriere Toto TV. Telefona. Puoi aggiudicarti in diretta uno dei quattro Maxi Sistemi. Puoi acchiappare il tuo 13 con il Radio Corriere TV. Grazie per la visione!